benvenuti da flying tiger collezione san valentino 2023 al costo di 6 euro abbiamo la ciotolina per i nostri amici quadrupedi al costo di 6 euro e al costo di 9 euro abbiamo dei simpatici giubbottini per i nostri amici a quattro zampe al costo di 4 euro troviamo i gioielli dell'amicizia per noi padroncini per il nostro amico a quattro zampe qui troviamo tutte le luci a tema san valentino al costo di 5 euro abbiamo la tazza magica che cambia colore al costo di 10 euro troviamo la borraccia e al costo di 6 euro troviamo il set per fonduta mattarello 8 euro e poi abbiamo tutte le formine al costo di 10 euro abbiamo il cuscino riscaldante con i semi di lino al costo di 5 euro troviamo uno scaldamani a forma di cuore praticamente suddiviso in due con la parola love al costo di 4 euro abbiamo il barattolino dove praticamente dentro c'è una campanola dove ammettere l'acqua e cresce al costo di 2 euro e 50 abbiamo un set di gomme composto dalla parola love al costo di 2 euro e 50 troviamo due birro con il cuore tutto speluscioso di cui una ha una freccia e l'altro ha le alette argentate qui abbiamo la matitina con le gommine a forma di cuore al costo di 5 euro troviamo diario con il lucchetto a forma di cuore anche qui tutto speluscioso ed è questo il lucchetto al costo di 7 euro abbiamo lo scrapbook kit tutto tema super amore al costo di 7 euro abbiamo altre lucine poi abbiamo uno specchio a forma di bocca al costo di 6 euro tappetino con il cuore al costo di 4 euro troviamo una bat bomb coriandoli da bagno e sali da bagno al costo di 3 euro troviamo sempre i portachiavi a forma di cuore con le alette tutti spelusciosi al costo di 3 euro abbiamo questi calzini rosa con scritto forever al costo di 3 euro e 50 abbiamo questi calzini tipo calzanti scivolo al costo di 8 euro abbiamo babbucce rosa tutte morbidose con un super cuore sopra qui abbiamo tutto lo corrente che ci serve per festeggiare san valentino i palloncini, ghirlande, borsine per i regali, tovaglioli a forma di cuore, di bocca, di lettera insomma tutto quanto qui abbiamo le simpatici peluche e maialino al costo di 5 euro al costo di 4 euro abbiamo l'album con gli adesivi dove c'è sopra il labrador e al costo di 6 euro c'è l'albero genealogico carimi little sugar ma quanto è carino questo cuoricino biscottoso al costo di 2 euro praticamente lo si può mettere sulla tazza e vai con la carrellata dei dolci per san valentino qui sotto nell'info box vi lascio anche il link diretto per seguirmi su instagram e se questo video vi è piaciuto lasciate un bel pollice all'insù commentate condividete iscrivetevi al mio canale e attivate la campanella per non perdervi i prossimi video ciao a tuttissimi ciao